in effetti l'alto tenore di vita era una caratteristica comune a tutte le città della sicilia l'isola era considerata dai greci un americante l'iteram un nuovo mondo ciò dove far quattrini in fretta e senza santi problemi nei palazzi dei tirani siciliani si respirava un'area rinascimentale domenico fin a un abatto del primo ottocento racconta che le due corti di sieracuse gergenti agrigento gareggiano tra loro in cortesia ed eleganza premiavano i nobili ingegni elicitano a ogni ottima industriosa art fin appara citata pagina 28 quando non posso ci si diverte spuntano sempre censura dna pasta e carta di adoro racconta che la molletta è raggiunta tal punto che durante l'assedio dei cartaginesi venne promulgato le dita secondo il quale si vietava alle sentinale di dormire compiti due guancianti di adoro sicolo 13 84 6 e timmeo che in quanto a pettegolizia non era secondo nessuno ci regala la descrizione di un'arcia del gentile del quinto secolo avanti cristo quella sera dice la storica torminese si era bevuto moltissimo e forse aggiungo io c'era stato anche un passaggio di droga certo è che nel bel mezzo della festa li invitati a ritenere di non trovarsi più all'interno di una villa bensì a bordo di una nave in baglie delle onde per cui presi dal panico cominciarono a buttare giù dalle finestre tutta la mobilia e vasellame della casa nel disperato tentativo di alleggerire al carico e di restare a galla quanto più tempo possibile quando poi finalmente giunsero sul posto i tutori dell'ordine timmeo racconta che questi ultimi furono scambiati per divinità marine e che tutti si buttarono nei loro piedi per implorarne il perdono da quel giorno la casa in questione fu soprannominata la tre rebi ateneo dei pennosofisti secondo 37 b aggrigento abbia il suo momento di massimo fulgore all'inizio del quinto secolo prima con la ditta attuale di terone e subito dopo con la democrazia terone fu uno dei dei tre grandi tirani siciliani che dominarono quel periodo agli altri due fratelli genone gerone si rispettivamente di siracusa e di genoa erano in certo qual senso sui parenti avendo era il primo sposato una figlia questi tre signori di frontale minacce della vicina cartagina e alle continue insuorezioni delle popolazioni sicule ritennero opportuno formare un'efficiente alleanza militare i cartaginesi furono sconfitti definitivamente nelle acque di mera nel 480 proprio nello stesso anno in cui a salamina i greci sbaragliavano la flotta persigna secondo pindaro non si trattò di una coincidenza ma di un preciso disegno del destino zeus mit uns le idee si erano schierate dalla parte dei greci pindaro pitica prima ai tre grandi però come spesso accade seguì una generazione di piccoli i successori di terone e celone e cerone non furono all'altezza dei genitori un po' perché litigarono fra loro un po' perché sottovalutarono le opposizioni democratiche trasideo il figlio di terone scese in guerra contro i siracusani e andò incontro a uno solenne marziatore grazie a tutti grazie a tutti